Buongiorno a tutti! In questo nuovo tetutore mostrò come realizzare questa sfiziosissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia Dea. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato quello della Mistrico Filati linea Portofino, che è 100% cotone, ma coppe Egitto. Ogni gomitore da 50 grammi misura 135 metri. Vi dico fin da subito che sul sito Uncentando con i filati, questo filato è in offerta, la vendita è al pacco da mezzo chilo e sono rimasti pochissimi colori. Molto di questo colore che ho usato io, che è quindi il bianco, molto celeste, molto rosa e se non mi sbaglio forse un pacco, due di lilla e viola, non ricordo più. Comunque tenete presente che la vendita è al pacco. Io per realizzare questa maglia, che è una taglia S, ho utilizzato 200 grammi di questo filato, lavorando con un cento del 3,5. E con il filato che mi ha avanzato, penso che farò proprio un coprispalle da abbinarci sopra. Devo ancora un po' decidere, forse utilizzerò proprio lo stesso punto, ma sono indecisa se farci un coprispalle, come quello, tipo una stola, o invece un bel giacchino, quelli là, corti, da abbinare sempre a maniche lunghe. Devo ancora un po' decidere, devo soprattutto capire se con i 300 grammi che mi sono riusciti rimasti riesco a fare una giacchetta. Ma penso proprio di sì, perché il punto, come potete vedere, è un punto molto forato, ma anche molto 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 estivo, che è la cosa che io preferisco. La particolarità di questa maglia sta nelle spalline, perché come vedete sono un po' particolari. La lavorazione si parte sempre da sotto, si lavora sempre in tondo, fino ad arrivare al, diciamo, sopra il seno. A quel punto si mettono i marcatori per poter dividere la parte dietro e la parte avanti e dar vita, prima di tutto, alle spalle della scolla a bacca, se così vogliamo dire. E dopo aver creato le spalline qui che scendono, si vanno a creare queste in alto, per dar vita proprio a queste, diciamo, mezze maniche forate, a questo scollo a bacca, non scollo a bacca, non so neanche come definire. Ma il stile è molto particolare e mi piace tantissimo. Naturalmente, durante il video tutorial, io do le maggiori informazioni possibili, perché ha una taglia più grande della mia. Ma, se avete qualche dubbio durante la realizzazione, non vi preoccupate, scrivetemi, sarò ben felice di aiutarvi. Vi dico inoltre che la lavorazione è molto semplice, perché per ottenere questo risultato, questo motivo molto carino, si devono ripetere sempre, prossimamente, due giri. Due giri che vanno a cambiare solamente quando poi si realizzano le spalline. Il secondo viene modificato proprio per poter creare le spalline. Io alla fine non ho fatto nessun tipo di bordino per rifinire la maglia, l'ho lasciata così com'è, perché mi piaceva appunto l'effetto che ha, quindi non ho fatto alcun tipo di bordino. Bene, quindi mi raccomando, in descrizione vi lascio il link per acquistare il filato. E se decidete di realizzare la maglia, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncidentando con Elsa, o sul gruppo La Libertà di Uncidentare e Speruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove vi troverete come Elsa Faccio o l'hashtag Uncidentandoconifilati. E se avete acquistato il mio stesso filato tramite la Merceria Coletti o sul sito Uncidentandoconifilati, potete poi taggarci sia su Facebook o sulla pagina Merceria Coletti, sia su Instagram Uncidentandoconifilati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filatilini a Portofino, che vi ricordo che sul sito Uncidentando con i filati, la vendita è al pacco in offerta. Ogni pacco è da 500 grammi e io utilizzerò questo filato per fare sia questa maglia che poi per unirla con un altro filato in un successivo video e fare un'altra cosa molto carina. Vi ricordo che ogni gomitore da 50 grammi misura 135 metri e che è 100% cotone maco egitto. Io ho montato 144 catenelle e lavorerò con l'uncinetto del 3,5. Mi raccomando, taglia M e andate a montare almeno 4 motivi in più. Taglia L ha meno 8 motivi in più rispetto a me, tenendo presente che la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8. Quindi adesso possiamo partire con il primo giro. Il primo giro che consiste nel realizzare. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la prima catenella di base e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro e vado a fare una seconda maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alti insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Chiudo le due maglie alti insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alti insieme, quindi ho realizzato tre gruppi di due maglie alte chiusi insieme. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, scusatemi che il filo, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro, una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima alta insieme, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta non chiusa. Rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa. Seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, prendo il filo, rientro, una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, rientro, seconda maglia alta non chiusa, chiudo le due maglie alte insieme, catenella di separazione, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Stop per terminare il primo giro, ho fatto le ultime due maglie alte insieme, la catenella, entro dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno del primo archetto di 2 catenelle. A questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo, ricomincio da capo. Vado dove ho l'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ricomincio da capo. Devo fare questo per il mio secondo e ultimo giro e poi ricominciamo dal primo. Naturalmente vi faccio vedere un attimo come iniziale, visto che qui abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle. Sto terminando anche il secondo e ultimo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. Bene, adesso si ricomincerà dal primo giro, quindi con una maglia bassissima mi porta all'interno dell'archetto di 3 catenelle e vado a realizzare 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Rientro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa, chiudo le 2 maglie alte insieme, 2 catenelle, 1, 2, rientro e vado a fare i miei 2 maglie alte non chiuse, una e rientro, 2 catenelle, 1, 2, rientro, altre 2 maglie alte non chiuse, 1, 2, catenella di separazione, vado dove ho la terza delle 5 catenelle, faccio una maglia bassa, catenella di separazione, ricomincio da capo entrando nell'archetto di 3 catenelle, quindi vedete io ho ricominciato a fare il primo giro facendolo però nell'archetto di 3 catenelle invece che nelle catenelle di base. Quindi questi sono i due giri che andremo a ripetere fino ad arrivare fin sopra il seno, vi dirò naturalmente quante volte ripeto il motivo, e come andare a fare poi quelle sfiziosa spalline della maglia. Dunque, io ho ripetuto dal sotto fino ad arrivare ai marcatori 21 volte il motivo, il 22esimo motivo ho ripetuto soltanto il primo giro e non il secondo, perché utilizzerò il secondo per creare lo scollo a barca. Vi dico come mettere i marcatori, allora io sono andata a contare i miei fiori, chiamiamoli fiori, però diciamo queste strisce dove ho i gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, e io ne ho un totale di 18, quindi che ho fatto? Ne ho messi 8 dietro, 8 avanti, 1 per lato, vedete? E dove ho messo quello laterale ho messo il marcatore, sia da questo lato che da quest'altro. Taglia ML, un solo fiore, cioè un scusa fiore, chiamiamoli fiori giusto per riuscire a capire, a voi non basta per poter fare lo scollo a barca, quindi invece di 1 ne dovete mettere 2 lateralmente e andare a mettere quindi il marcatore avanti dove avete l'ultima striscia e il marcatore dietro dove avete l'ultima striscia, lasciandone per fare per sotto il braccio 2 strisce e non una come sto facendo io, questa taglia ML, forse L dovesse lasciare anche 3, però secondo me 2 bastano. A questo punto, quindi, una volta, mi raccomando, poi se avete quello dispari come motivo, quello dispari va sempre sul davanti. Ora, fatto ciò, io posso andare a fare il mio secondo giro del motivo. Lavorerò normalmente, vedete, io non ho spezzato il filo, vado a lavorare normalmente il mio secondo giro, fino ad arrivare dove sto qua il marcatore e farvi vedere poi come passare da questa parte alla parte dietro, creando appunto lo scollo a barca, naturalmente vi darò le indicazioni sia per taglia S che per taglia più grande. Quindi adesso andiamo a lavorare normalmente il secondo giro e vi farò vedere poi come creare appunto queste sorte di scollo a barca. Allora, sono arrivata nell'ultima striscia, prima del mio marcatore, dove ho la striscia con il marcatore. A questo punto, io devo fare delle catenelle che mi permettono di passare dalla parte dietro. Ricordatevi che il multiplo su cui stiamo lavorando è un multiplo di 8. Io andrò a fare un totale di 32 catenelle, perché vado a fare 4 motivi, non di più, sapete che io ho le braccia piccole, quindi secondo me 32 catenelle vanno più che bene, anzi in realtà adesso le andrò a fare, ma se mi accorgo che poi 4 motivi sono troppe e me ne passano 2, andrò a diminuire le catenelle. Però, per una taglia M o una taglia L, io per una taglia M andrò a mettere 6 motivi, quindi 8 catenelle per 6, per una taglia L andrò a mettere 8 motivi, quindi 8 catenelle per 8, perché sono 8 motivi. E il numero di catenelle andiamo a fare, quindi adesso vado a fare i miei 32 catenelle. Una volta fatte le mie 32 catenelle, vi farò vedere come passare dalla parte di avanti alla parte dietro. Ho realizzato le mie 32 catenelle, salto la striscia con il marcatore, quindi la striscia centrale, vado nella prima striscia del dietro e dentro normalmente nel primo archetto i due catenelle che separano i gruppi di due maglie alte e vado a fare la mia maglia bassa. Quindi, chi ha fatto taglia M e ha messo due file centrali, deve saltare le due file centrali e andare direttamente alla prima della parte dietro. Allora, ripeto, come spazio per me va benissimo, vedete il mio braccio ci passa, però voi dovete calcolare questo, dovete fare in modo che la manica che ne vi passi il braccio. Ricordatevi però che quando poi andrete di nuovo a lavorare il primo giro, le catenelle tenderanno ad allargarsi, quindi non fate troppe catenelle, cioè non mettete troppe troppe catenelle, altrimenti rischiate che quando poi andate a fare il primo giro vi si allarghi troppo e quindi poi non vi piaccia come vi sta. Tenete presente che comunque se avete visto l'inizio del video, perché la mia idea è quella, io andrò a fare comunque delle spalline che serviranno per mantenere sulla maglia, quindi anche se la manica viene un po' larga e vi scende, non è un problema, ma diciamo che forse non vi piace, quindi sarete costretti a disfare. Quindi state molto attenti a questo, per questo io ho montato quattro motivi e non cinque, perché so che le catenelle andranno ad allargarsi ulteriormente e non voglio che si allarghino troppo. Adesso io continuo a lavorare normalmente sempre il mio secondo giro, quindi continuo a lavorare normalmente, per arrivare poi a far vedere di nuovo, io andrò a fare di nuovo le mie 32 catenelle da quest'altra parte e vi farò vedere come poi chiudere il giro e poi torneremo a lavorare normalmente il nostro primo giro e qui andremo a lavorare come abbiamo lavorato all'inizio quando abbiamo fatto qua in basso, quindi il primo giro sulle catenelle e poi naturalmente continuiamo a lavorare in tondo normalmente. Comunque adesso vi farò vedere come terminare quindi questo giro e poi una volta che ero iniziato di nuovo il motivo, quando arriverò qui vi farò comunque vedere un attimo come si lavorava in caso vi fosse dimenticata e dimenticate. Ho fatto di nuovo le mie 32 catenelle, vedete io adesso torno su davanti, vado direttamente dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, quindi ho terminato il secondo giro del motivo, vedete, e ho creato così il mio scollo a barca. Adesso vado a lavorare normalmente quindi il mio primo giro, quindi entro dentro e vado a fare la mia 2 catenelle, che sono la prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, chiuso la lavorazione. Quindi lavoro normalmente e quando arriverò di qua vi farò vedere un attimo giusto per ricordarvi come si lavora e poi continueremo a lavorare normalmente, vi dirò poi alla fine quante volte ripeto il motivo. Io credo che ripeterò il motivo soltanto due volte, massimo tre, ma penso che due basteranno, devo ancora un po' decidere, naturalmente proverò la maglietta e vi farò poi anche sapere questo. Allora, come vedete, io ho lavorato sopra le catenelle di motivi, anche se io non ho montati 4, ne sono venuti fuori 3, ma va bene, perché comunque la larghezza è quella che cercavo, quindi anche voi, se si avete messo delle catenelle in più di motivi, ve ne trovate uno in meno a quello che avete messo, ma è normale perché avete iniziato con la maglia bassa, invece che iniziare con i nostri gruppi di maglie alte, perché noi qui, quando siamo arrivati, abbiamo fatto, io ho fatto così, vi faccio vedere, i tre gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, ho saltato 3 catenelle e nella quarta ho fatto la mia maglia bassa, e poi salto 3 catenelle, vado a fare i miei gruppi, salto 3 catenelle e faccio la maglia bassa, salto 3 catenelle e faccio i miei gruppi di maglie alte chiusi insieme, e così via. termino con la maglia bassa, e poi parte di noi, inizio a lavorare normalmente, quindi non vi andate nel panico, se vedete che voi avete montato per 8 motivi, e ve ne ritrovate 7, è normale, l'importante è che il foro qui della manica, sia perfetta per far ripassare il grosso braccio, e per me va benissimo, quindi adesso continuerò a lavorare, farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, e poi vi farò sapere quante volte ho ripetuto il motivo, prima di andare a fare poi queste spalline di cui vi ho parlato, per fare in modo che anche se qui sia un po' largo, la maglia comunque resti su. Allora, ho fatto, ho ripetuto il motivo per due volte, l'ultimo motivo, quindi ripetendo sia il primo che il secondo giro, sono andata a farlo con un cento numero 3 per stringere un po' la lavorazione, perché mi sono accorta che era troppo larga, però restringendo col 3 è venuto benissimo, a questo punto ho spezzato il filo e vado a fare le mie spalline, per fare le mie spalline io lavorerò solo su un filo, e lavorerò sul secondo, partendo all'esterno, noi abbiamo, questo è il mio primo filo, striscia, lavorerò sulla seconda striscia, sia da questo lato che da quest'altra parte, e anche dietro, vi voglio far vedere come fare, per far vedere avere sempre la striscia, lavoreremo in maniera un po' diversa, ma giusto per farvi capire i giri di andata e ritorno, allora quindi, mi avvicino con la telecamera, così potete vedere meglio, ok, allora questa è la prima striscia, io devo lavorare sulla seconda striscia, e mi avrò ad agganciare, dove ho la terza catenella del gruppo di 5, e vado a fare, o mi alzo con una catenella, rientro e vado a fare la mia maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'archetto di 2 catenelle, vado a lavorare malmente, i miei gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, quindi il primo gruppo vado a fare 2 maglie alte chiusi insieme, 2 catenelle, rientro, secondo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme, 2 catenelle, terzo gruppo di 2 maglie alte chiusi insieme, ah, io sto continuando a lavorare con il numero 3, giusto per poter avere le spalline rigide, che mi tengono su il vestito, ma se voi non avete bisogno di stringere o di fare altro, potete continuare naturalmente a lavorare con l'uncinetto del numero 3 e mezzo, quindi vado a fare la mia catenella di separazione, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle, faccio la maglia bassa, quindi mi fermo qui per primo giro, mi giro con la lavorazione, e il secondo giro consisterà in questo, vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, e, catenella di separazione, vado dove ho l'archetto i 2 catenelle, entro e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nel secondo archetto e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, quindi questo è il mio secondo giro, mi giro con il lavoro e ritorno a fare il primo, mi alzo con una catenella, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia bassa, catenella di separazione, entro nell'archetto di 3 catenelle, e vado a fare di nuovo il mio gruppo di 2 maglie alte, chiusi insieme, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, chiusi insieme, 2 catenelle, rientro, altre 2 maglie alte, chiusi insieme, una catenella di separazione, vado dove avevo la terza catenella che equivaleva la mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassa, e continuo a lavorare questi due giri per creare appunto una sorta di spallina, come vi ho detto io farò la stessa cosa anche da quest'altro lato, quindi qui, e farò la stessa cosa anche dietro, penso che farò almeno 4-5 motivi, quindi ripetendo il primo e il secondo giro, sia avanti che dietro, e poi andrò a cucire i motivi sulle spalle, cioè cucire quindi due motivi insieme, e una volta fatto anche le spalline, la mia maglia sarà terminata, naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto il motivo, per poter chiudere le spalline. Ho ripetuto i due giri per 4 volte, per fare le mie spalline, quindi 4 giri, ho ripetuto 2 volte, 4 volte 2, scusatemi, 4 volte i due giri, sia avanti che dietro, e poi ho cucito alle spalle, quindi la mia maglia è terminata, io non andrò a fare nessun tipo di bordino, né sotto, né qui di lato, lascio la maglia così come è venuta, mi raccomando, naturalmente, se siete una taglia più grande da me, secondo me per una M dovete andare a fare almeno 5, se non anche 6 motivi, per una taglia L dovete andare a fare, secondo me, 7 motivi. Grazie. 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 Grazie.